Musica Ciao a tutti ragazzi sono Corridan e ancora una volta ben ritrovato nel mio canale Proseguiamo con la nostra serie di Untarned e per quanto io sia partito veramente male Vi mostro oggi una nuova mappa che si chiama Fallout Metro Quindi questa è la mappa Un po' ce la fa zoom a Ce la fa zoom a Zoom out Si chiama Fallout Metro Dovrebbe essere una mappa ispirata a Fallout e poi ho scaricato anche un'altra Tutta completamente ambientata in un paesaggio desertico che si chiama Wasteland E quindi dovrebbero essere mappe molto carine Ma intanto giriamoci questa di BJ Ecofuel Tra l'altro dove c'è pieno di zombie Cioè mi ha fatto partire in mezzo agli zombie Sono qua su Vediamo un po' di fare una zoomata a capire dove cavolo siamo Siamo a Metropolis, Town Park Ah la città di Metropolis E che cazzo è quella di Superman E dobbiamo andare Rebel Outpost E dov'è il Vault? Vault! Ragazzi eccolo qui Dobbiamo arrivare qua giù Missione di oggi è arrivare qua giù nel Vault 072 Non ce lo vogliamo girare un Vault di Fallout Visto che è uscito anche Fallout Shelter a fine anno Fallout 4 Vediamo però se riesco a entrare lì Inizio a farmi ammazzare Però mi farò ammazzare sì perché c'è pieno di zombie Porca Ho scaricato ragazzi anche una mod che ti fa usare mezzi militari E quindi blindati Cioè no c'è lo zombie con l'accetta L'accetta? Ma un martello piantato il testo Ma sarà morto? Un elicottero piantato sul tetto È morto questo Ma non me la fa prendere Cup Munizioni Munizioni Sempre il mio panca bestia Guardate bello Comunque il cristino Sembro Sembro Danzig Ai tempi d'oro Uuuuh Dio Sì Sì Casino di colpi Ah finalmente posso sparare anch'io E allora andiamoci a divertire A questo punto Facciamo un po' di casino per una volta Zero stealth L'assalto degli zombie Eh vabbè ciao vabbè Con quest'arma qui Oh ragazzi per una volta sparo eh Per una volta non me la gioco stealth Voglio sparare anch'io Perché ho fatto una strage Tra l'altro dovrei aver preso anche uno sbotto di Allora G è l'inventario U sono i punti 25 punti li metterei tutti in Sharpshooter Voglio sparare meglio Ah no Ah no Ci sono meno punti Sharpshooter Voglio sparare veramente da dio Zero stealth eh Zero stealth Veramente oggi abbiamo trovato un mitra Zero stealth La macchina è lì Mi devo ricordare di prenderla Perché dobbiamo Missione del giorno Andare A esaminare il vault Vieni vieni Stronzolo Vai Vieni tra nel culo No ragazzi Cos'è quel cosa laggiù Ciao Cos'è Oh Questa strada bruttissima Ma Che cazzo è L'ornitottero Che andava a prendere le macchine Della spezia Su Dune Quello degli Atreides Non ho giocato a Fallout Vegas O almeno L'ho iniziato soltanto Magari un mezzo di Fallout Sinceramente Mea culpa Non me lo ricordo Però direi che è il caso A questo punto Di prendere una macchinina E andare a visitare questo vault Guarda Cazzo questo stronzo Più due esperienza Cane È stato stronzo È morto Ci dovrei avere qualche punto Magari per Uh 13 punti Sì Police Police Ragazzi Police Eh Police Vediamo se trovo qualcos'altro Questo cos'è Cos'è Noi lo distruggiamo Per farci un po' di Bende Ok Poi andiamo qui E Facciamo una benda Che ritroviamo Rag E Cloth E Ho già fatto il bandage Vediamo un po' Ah sì E due Fanno un rag Però io volevo fare la cura Bandage Servono Due rag Ovviamente che Non ho Quindi dobbiamo trovare qualcos'altro Da strappare Vediamo se c'è qualcosa qui dentro Sono un ranger Sono diventato un ranger Police bottom Quindi benissimo Spacchiamo E posso fare Ancora Ok Ora Dovrei avere una benda Bandage Ok Perfetto Abbiamo fatto la benda Spacchiamo tutto Così ci abbiamo un po' di bende Bender Di Futurama Allora Tagliamo anche questo Bandage Dressing Rag E Faccio un altro bandage Così ne abbiamo Due bandage Perfetto Stazione di polizia Mi sa che non c'è Niente Vabbè La cella Quella classica Del distretto Dello sceriffo No Una cella sola In attesa di essere portata al carcere Boh Comunque è veramente bella Sta mappa Con tutti i grattacieli I palazzi Bella Per davvero Hanno fatto davvero una bella mappa C'è un po' di zombie Sembra di gioare A black ops zombie Anche oggi Eh Fangù Oh C'è quello che strisca Ho tirato il mondo Vieni vieni Oggi non ho più paura Non mi fate più paura Schifi Vediamo se si riesce Appendono la macchina Il problema Da dove cazzo La faccio usci Da dove la faccio usci Cioè la prendo E poi non esce Boh Si sono dimenticati Di fare l'entrata Al parcheggio Del palazzo Cinema world Vediamo un po' Che c'è all'interno Ci hanno fatto anche Oh Con il lucernario Con tutti i rampicanti La natura Si riappropria Di quello che L'essere umano Le ha tolto La sala Sembra la mod Quella di G mode No cinema La sala di proiezioni Penso che non ci sia Niente di che Tra l'altro Non ho visto manco loot Da qualche parte No Non sembra esserci loot E Siamo però Nella direzione giusta Quindi bisogna prendere Una mappa E una mappa Si Una macchina E andare verso il vault No ma del macchinario C'è Della sega Da cava Le vogliamo parlare Ma la faccio Lo cazzo Peccato Non si possa usare Questo è il villaggio Di Ucraine Qui sulla mappa Ma non mi fermo Perché ormai voglio arrivare Al vault Cioè Mappa di fallout Penso sia la cosa più importante Magari Porco mondo Avessi trovato una macchinina Qualcosa C'era quella Al benzinaio Tardi Ormai Non andate a tettarli Base militare Con elicotteri Un jet Laggiù in fondo Vediamo La radio tower Non ci voglio vedere La vediamo se troviamo Almeno Boh Un'arma Military suppressor Questa via è tutta roba Per la modifica Delle armi Vediamo se mi fa Modifica qualcosa Della mia Safety No ho sbagliato Scusa Tactical light Cavalletto No Tactical light Non ce lo voglio Mi rompio coglioni Mirino Ah il coso per la stabilità Quello quando ci distende per terra Così la mira Balla il meno possibile Qua Che robaccia c'è L'Uzioino L'Uzioino militare Il backpack militare Ed è allora Mi inculo tutto Mi inculo Mi voglio vestire Come un sordato Madonna quanto loot C'è in questa mappa Eeeh Mitra Eeeh Eeeh Andiamo un po' Tactical vest Ciao dei ragazzi Senza mitra Cioè ci ho montato anche Ci ho montato anche L'ottica Da sniper Di buono Ti mi può cambiare Che qui mi voglio vestire a modino Eeeh Ora voglio fare il sordatino La tattica al vest Cioè guardate là Guardate No Guardate là cosa sono diventato Cioè un soldato Classico personaggio Di Daisy Veramente Veramente sono diventato Bellissimo Ho fatto bene A passare da questo campo Un po' di roba Cos'è Ah l'elmetto Ma vedi un po' Che modifiche ho trovato Ah vabbè Sì La mira normale No Mi guardavo più l'ottica Quella di prima E a questo punto Mettiamoci L'elmetto Molto militare E siamo ancora più belli Eeeh Ora sono proprio il sordato Perfetto Andiamo al vault Sì ma ne vogliamo ragionare Guardate qui c'è Un buco C'è un bunker Ne vogliamo ragionare Dei mezzi militari Utilizzabili Ne vogliamo ragionare Per davvero Ne vogliamo ragionare Di cosa stanno Per questo vi dico Che non è il mio gioco preferito Antunned Ve l'ho sempre detto Però E lo gioco soprattutto Un single player Però la figata è che È come Ark È moddabile Al 100% Cioè si trovano Se trovate un modder Veramente con le palle Come quello ieri Avevo fatto vedere la mappa Cioè c'avevo l'ermo E il fucile bolter Delle space marine Degli ultramarine Di Warhammer Cioè si può fare Veramente tutto I giochi più belli Sono quelli Che si possono moddare Al 100% Cioè Bellissimo Andiamo Allora bisogna andare Se detto Al vault Cerchiamolo Bip bip Ci siamo quasi Direi che siamo A metà strada Per il vault No ragazzi Sunset Sarza Sarza Parilla Pariglia No guardate Che figata ragazzi C'è tutto distrutto Guardate Proprio dal senso Apocalittico Veramente Con il camion rovesciato Forse di tutte le mappe Che ho provato finora Smileyland È la più bella Che mi avete fatto giocare Me l'avete consigliata Nei commenti Però anche questa Cazzo Questa è tosta Siamo nelle vicinanze Del vault Che dovrebbe essere laggiù E qui c'è un villaggetto Fantasma Guardate che figata Tipo una base militare Con una ruota panoramica Sembra quella di Coney Island E poi Vediamo se ci fosse Magari una macchinina Per arrivare un po' più veloce Una macchina no Però c'è il camioncino Ma che cazzo c'è laggiù Una fortezza La strada per il vault Devebbe essere Questa qui Vediamo il furgoncino L'unica cosa è che Questi mezzi militari Sono lentissimi Anche prima L'anvi Era di una lentezza Che alla fine Veramente l'ho abbandonato Ho detto Vado a piedi Perché ci metto di meno Guardate Sono veramente lentissimi Vediamo le luci Ok Le luci le accende dentro Invece fuori Che cazzo è Un parco giochi È Disneyland Che roba è No è lentissimo Ragazzi è lentissimo Veramente Vado più veloce A piedi Vediamo Ma di solito Non sono scavati Niente alla montagna Eccoci All'entrata Del vault Una batteria Una chiave inglese Un cadavere E una pistola Un cannone Cannone pistolato Finto tra l'altro Non si può nemmeno prendere Se no Me la rubavo subito Radiazioni Radiazioni qui dentro Visto che è aperto No niente La zona è decontaminata Adesso armadietti Forse quello che manca Un po' D'antarne Della possibilità Di aprire armadietti Lutarli Cioè ci sono tante cose Che sono un po' Troppo finte Su questo gioco Questa cosa è Pantaloni Pantaloncini Qua Ah Morto Morto anche questo Dei pack E' uno zainetto Ah si E' uno zainetto Questo qui Cioè dopo tutto Sto giro E sta camminata Finisce vi il vault C'è una porta segreta Valcosa Tutto qui Finito qui il vault Ah non è possibile Dice si è possibile Una botola Valcosa Fatemi vedere Forse qui Oh no Finito vi Che cazzo di vault è questo Cioè uno pensa Il vault aperto Sono stati raidati Dai riders Sono morti Sono torti dai coglioni No sono morti Soltanto Due o tre scemi Ve l'hanno in sacchetta E quello di là E il resto Si sono torti dai coglioni Perché Questo vault piccolo Così Era veramente Deludente Ragazzi che dire Spero che l'episodio Vi sia piaciuto Voi al solito Fatevela prendere bene La mappa Si scarica dal workshop Untarned Nella libreria dei giochi Workshop Si chiama Fallout Spero che Fallout vault Mi sembra proprio Spero che ovviamente Vi sia piaciuta Secondo me è molto carina Sono pochi zombie Però anche questa è carina Per Per magari Se avete un server Ambientarcelo e tutto Se il video vi è piaciuto Ovviamente lasciate un pollice in su E condividete il video Dove vi pare un po' Su google plus O social network Dove siete iscritti Ragazzi fatevela prendere bene Dall'apocalittico e tutto Ciao